La compassione come la lente del cuore fa capire le dimensioni della realtà ed è anche il linguaggio di Dio, mentre tante volte il linguaggio umano è l'indifferenza, ne ha parlato il Papa alla messa mattutina celebrata a casa Santa Marta. Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano Bartolomeo I nell'ambito della visita del Patriarca di Costantinopoli in Italia. Domani e dopodomani sarà all'Ungro in provincia di Cosenza per i cento anni dell'eparchia degli italo-albanesi. Il 9 novembre il Papa presiderà una liturgia nella Basilica di San Giovanni in Laterano ad annunciarlo il cardinale vicario Angelo De Donatis ieri sera durante la cerimonia di apertura del nuovo anno pastorale della Diocesi di Roma. Contro l'inciviltà dello scontro servono artigiani del dialogo. Sono parole del Papa incontrando sabato in Vaticano i Vescovi orientali europei. Il populismo è un pericolo, ha detto, occorre una testimonianza vissuta nella carità che sana le divisioni. Aprire il cuore alla compassione e non chiudersi nell'indifferenza è il forte invito che stamani Papa Francesco rivolge nell'omelia della messa a casa Santa Marta. La compassione infatti ci porta sulla via della vera giustizia salvandoci così dalla chiusura in noi stessi e dall'egoismo. Tutta la riflessione parte dal brano del Vangelo di Luca della liturgia di oggi nel quale si narra dell'incontro di Gesù con la vedova di Nain. La donna piange la morte del suo unico figlio che Gesù poi le restituirà vivo. La compassione, dice il Papa, è come la lente del cuore che fa capire le dimensioni della realtà. E il nostro Dio è un Dio di compassione, è la debolezza di Dio possiamo dire, ma anche la sua forza. Anche nella moltiplicazione dei pani Gesù prova compassione mentre i discepoli vorrebbero congedare la folla con atteggiamento egoistico. E qui, se la compassione è il linguaggio di Dio, tante volte il linguaggio umano è l'indifferenza. Farsi carico fino a qui e non pensare oltre. L'indifferenza. Uno dei fotografi nostri, nell'osservatore romano, ha scattato una foto che adesso è nella elemosineria, che si chiama indifferenza. Ne ho parlato altre volte di questo. una notte d'inverno davanti a un ristorante di lusso. Una signora che vive sulla strada tende la mano a un'altra signora che esce ben coperta dal ristorante e quest'altra signora guarda da un'altra parte. Questa è l'indifferenza. Quella fotografia andate a guardarla. Questa è l'indifferenza. indifferenza nostra. Quante volte guardiamo da un'altra parte. E così chiudiamo la porta alla compassione. Possiamo fare un esame di coscienza. Io abitualmente guardo da un'altra parte. Lo lascio che lo Spirito Santo mi porte sulla strada della compassione, che è una virtù di Dio. Il Papa ha incontrato in Vaticano il Patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, un'udienza che avviene a pochi giorni dalla diffusione della lettera di Francesco sulle ragioni che lo hanno spinto a regalare alla chiesa ortodossa le reliquie di San Pietro. Una conferma del cammino che le due chiese hanno compiuto per avvicinarsi tra di loro, aveva scritto il Pontefice. In seguito, in un'intervista ai media vaticani, la risposta di Bartolomeo che ha espresso sorpresa per il gesto considerato come un passo cruciale verso l'unità dei cristiani. Un gesto potente, ha spiegato ancora il Patriarca, del vero amore fraterno che oggi unisce cattolici ortodossi. A confermarlo anche l'udienza odierna, che avviene nell'ambito della visita di Bartolomeo in questi giorni in Italia. Lunedì la partecipazione ad un evento presso il Pontificio Istituto Orientale a Roma. Ieri l'incontro a casa Santa Marta con il capo della chiesa greco-cattolica ucraina, l'arcivescovo Maggiore Shevchuk, per discutere di ecumenismo e dei rapporti con la chiesa orientale. Domani e dopodomani invece tappa all'Ungro, in provincia di Cosenza, per il centenario dell'eparchia degli italo-albanesi dell'Italia continentale. Il vicario del Papa per la diocesi di Roma, il cardinale Angelo de Donatis, ha aperto il nuovo anno pastorale nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Nel suo intervento ha precisato l'identità delle equip che saranno istituite in ogni parrocchia per ascoltare il grido della città, come previsto dalle linee programmatiche. Un'iniziativa pienamente condivisa da Francesco. La cosa bella è che il Papa ha accettato di presiedere l'Eucaristia qui in Basilica il 9 novembre, è un sabato, alle 17.30, con tutti voi e queste equip pastorale, questi gruppi che porteranno avanti questo impegno di animazione. Direi sarà il mandato liturgico fatto dal Papa, insomma, perché lo desidera, desidera farlo lui e in una data direi particolarmente significativa la dedicazione della Basilica del Laterano. L'impegno delle equip pastorali verrà definito operativamente nell'ambito di tre incontri in calendario domani, giovedì e venerdì sera, alla presenza di tutte le realtà che operano a Roma al fianco di giovani, famiglie e poveri. Non servono cassette postali da collocare in fondo alle chiese per raccogliere storie di vita. L'obiettivo, ha precisato il cardinale, è quello di entrare in relazione. Non bisogna girare dappertutto con un taccuino e con una penna, non vogliamo fare le interviste. L'incontro deve essere un vero volto a volto, un esercizio di ascolto fatto con il cuore, provocare gli altri alla condivisione, alla confidenza, alla fiducia. E ci accorgeremo di quante persone hanno desiderio di essere ascoltate. Il cardinale ha spiegato che il percorso si fonda sulla preghiera e sulla condivisione, non solo all'interno delle equip pastorali, ma soprattutto nella comunità parrocchiale durante la messa domenicale. Quante preghiere dei fedeli durante la messa sono così generiche, sono così formali. Quei foglietti, benedetti foglietti, abbiamo sempre parlato di questi, stampati a livello nazionale, che non esprimono niente a volte di vita reale. Invece ci sono le intenzioni vere da esprimere. Queste preghiere avranno il sentore della carne viva del nostro quartiere, perché sapranno di vita finalmente. Le persone che vogliono uscire dalle situazioni di precarietà vanno aiutate, e quanto ribadisce padre Vittorio Trani, cappellano del carcere di Regina Celi, che nei pressi della casa di reclusione romana gestisce una struttura di solidarietà nata sette anni fa per offrire supporto agli ex detenuti. Noi offriamo un appoggio per un certo tempo, il tempo per consentire di guardarsi un po' attorno, quindi si lavora un po' in sintonia. Qualche volta capita a mezzanotte che mi telefonano la direttrice, perché devono mettere fuori una persona, quando arriva anche tardi la scarcerazione, non si può tenere dentro la persona, perché se passa la mezzanotte si rischia di essere denunciate per sequestro di persone. E allora si fa fronte un po' per queste emergenze. Quando qualcuno esce dal carcere e si trova senza lavoro e senza famiglia, rischia di entrare in un tunnel. Capita più spesso di quanto si immagina che una denuncia viene da un membro della famiglia. A quel punto è drammatico quando si esce, perché la famiglia non solo non ti accoglie, ma ti è contro. E ci sono tante situazioni molto delicate. Il centro, che si chiama Voreco, volontari regina Celi, offre servizi primari come la colazione, la cena e tante altre forme di sostegno, non solo per gli ex detenuti. Nella settimana poi questo centro diventa un po' un centro che offre dei servizi di prima necessità, quindi sono i medici il sabato, l'oculista un altro giorno, lo Torino, l'avvocato, il centro CAF della UEL, poi vengono distribuiti i vestiti ogni 15 giorni, il pacco. Quindi è un po' come un cuore sensibile alle necessità di quanti si trovano in mezzo alla strada. La struttura è diventata un punto di riferimento per il disagio nel centro di Roma. Si occupa anche della distribuzione di medicinali e di cibo e sono molti gli italiani che ne hanno bisogno. Persone che hanno una pensione di 500 euro e devono pagare l'affitto, italiani. È difficile arrivare. C'è una coppia, non so se lo posso, di attori, che non li chiama nessuno. E stanno e vengono qui. Per la persona anziana, a volte le aiutiamo, le portiamo a casa perché non ce la fanno. Il Voreco ha a disposizione una ventina di posti letto, destinati anche ad un'altra emergenza, quella dei genitori con figli ricoverati al bambin Gesù. Noi stavamo qui, venivano a cercare, dicendo, c'avete un posto dove dormire? A volte li mettevo sotto, lì dove ho una stanzetta riservata per questi che escono dal carcere. Abbiamo sempre un posto dove accogliere all'ultimo minuto. Li mettevamo là. Dice, perché c'ho mia moglie che sta con il bambino, ma io non ho soldi, devo dormire in macchina. Quindi il Padre Ettore ha detto, ma guarda che c'è proprio un'esigenza di questi papà che vengono a chiedere. E così lui, qui a Santa Torotea, alla parrocchia, si è fatto dare un piano dal parroco e lo gestiamo noi. L'incontro in Vaticano con i Vescovi Cattolici orientali in Europa. Il Papa ha sottolineato la presenza di rappresentanti della Chiesa ucraina, di quella bizantina, di diversi esponenti in arrivo dal Medio Oriente, dall'India e da altre regioni. Questa, ha detto Francesco, è la ricchezza della Chiesa Cattolica, non limitata alla tradizione latina. Come afferma il Vaticano II, la varietà non solo non c'è l'unità della Chiesa, ma anzi la manifesta. L'unità cristiana, infatti, non è uniformità. L'uniformità è la destruzione dell'unità. E la verità cristiana non è monocorde, è sinfonica. Dal contrario, non sarebbe lo Spirito Santo. Francesco ha parlato della missione ecumenica, precisando che questo percorso si declina in un mondo e in un tempo dove non mancano criticità e divisioni. Oggi troppe disuguaglianze minacciano la pace. Siamo chiamati ad essere artigiani di dialogo, promotori di riconciliazione, pazienti, costruttori di una civiltà dell'incontro. Il Papa ha aggiunto che bisogna evitare chiusure, perché i particolarismi nazionali o etnici portano al populismo. E il populismo, aggiunto, rappresenta il pericolo di questo tempo. La comunione cattolica fa parte della vostra identità particolare, ma non le toglie nulla. Anzi, contribuisce a realizzarla pienamente, ad esempio proteggendola dalla tentazione di chiudersi in se stessa e di cadere in particolarismi nazionali o etnici escludenti. E questo è un pericolo di questo tempo della nostra civiltà, no? Per Francesco non bisogna essere attaccati ai soldi. Occorre superare divisioni e pregiudizi, sanare le ferite e lavorare fianco a fianco anche con i non cattolici. Il Signore ci vuole seminatori miti del Vangelo dell'Amore, ha detto, per diffondere gioia e speranza. Il cammino è vivere nella carità e nell'amore. Un'offerta che non dimentica le minoranze. Il Papa si è rivolto così ad una delegazione della RAI ricevuta in udienza in Vaticano in occasione dei primi 40 anni dell'attestata giornalistica regionale. Francesco ha ricordato il grande impegno del personale giornalistico e tecnico nell'ambito delle redazioni locali. Sono convinto che l'informazione locale non è da considerare minore rispetto a quella nazionale. Anzi, direi che è la più genuina e la più autentica nel mondo mass mediale. Alla presenza dei dirigenti dell'azienda pubblica, il Papa ha parlato del contributo offerto nel corso dei decenni per la formazione dell'identità nazionale. Il ruolo dell'informazione locale ha ribadito e di fondamentale importanza soprattutto nell'era della globalizzazione. È chiamato a trasmettere unicamente la voce della gente in tutti i suoi aspetti e nei diversi momenti della vita sociale, culturale e spirituale ed ha un compito altrettanto importante nel valorizzare le realtà e le culture locali senza quali anche l'unità della nazione non esisterebbe. Il Papa ha ringraziato i giornalisti e ha incoraggiato tutti a continuare a raccontare quelle realtà genuine che ancora si trovano in tanti angoli d'Italia. C'è un mare sommerso di bene, ha concluso, che merita di essere conosciuto. I titoli dell'osservatore romano di mercoledì 18 settembre. Cresce la preoccupazione dopo l'attacco agli impianti sauditi. Donald Trump minaccia Teheran di ritorsioni mentre si impenna il prezzo del petrolio. Sanguinoso attentato in Afghanistan, illeso il presidente che partecipava alla manifestazione. L'incontro del Papa con il Patriarca Bartolomeo. Udienza in Vaticano. Trentunesima riunione del Consiglio dei Cardinali. In Venezuela si annuncia un Tavolo Nazionale per la Pace con parte dell'opposizione. Spezzare un gioco, il Vangelo della venticinquesima domenica del tempo ordinario.